Musica Ciao a tutti, sono il Fede di Lippo di Guadagnani Vittoria 4-1, un passo aperto Però sono riusciti comunque a chiudere la partita Sì, sì assolutamente, sapevamo che oggi Era tosta perché loro L'erano già vista l'andata Che era una squad forte semplicemente Che non di verorità, però Ce l'hanno detto che oggi era molto importante Un po' di tensione in mezzo al campo Si, si, si Pertanto qui non c'era assolutamente cattiviera E' solo l'agonia Sono nostri come le persone guardie Noi dobbiamo continuare così, siamo in buona Buona tessere '! Sì Sì I miei preschool, i posti di questo Va bene, dai La proposta c'è Chia È un tanto vero, un grygare molto Ciao!